Ecco, in questo video cerchiamo di capire un po' come si utilizza News Score. Quindi questa è la schermata che ottenete quando aprite il programma, quando lanciate il programma. In pratica vi dà una finestra di avvio in cui potete già selezionare se scegliere un particolare modello di partitura oppure crearla da zero. La partitura che cos'è? Non è nient'altro che un elenco degli strumenti che devono suonare in un determinato brano. Quindi avremo una linea sola nel caso di uno strumento solo oppure più pentagrammi sovrapposti nel caso di più strumenti. Ora vediamo pian pianino di esplorare le varie possibilità che ci offre questa finestra di avvio. Quindi possiamo tranquillamente cliccare su crea nuova partitura e nelle finestre di dialogo che compaiono andiamo a eventualmente, possiamo anche ignorare in realtà queste finestre andando su successivo, oppure possiamo tranquillamente mettere dei vari dati. Quindi in titolo possiamo inserire, non so, prova. Sotto titolo mettete chiaramente nuova di scrittura, mettete quello che vi serve. Compositore potete mettere il vostro nome e cognome. Paroliere nel caso chiaramente di testi letterari, diritti d'autore. Se c'è un eventuale copyright potete mettere i vostri dati e l'anno di riferimento. Quindi andiamo a successivo. Ecco e ci appare questo, selezione agli strumenti. Quindi noi possiamo fare una selezione o della chiave di violino, se vogliamo una partitura per violino oppure per flauto, quindi tutti strumenti che utilizzano la chiave di sol, oppure usare la chiave di basso direttamente se dobbiamo scrivere per violoncello, per esempio. Se dobbiamo scrivere musica corale, vedete che abbiamo ad esempio varie possibilità. Sapb vuol dire soprani, alti, tenori e bassi, quindi soprani, contralti, tenori e bassi. Più organo, più pianoforte a seconda dello strumento che noi vogliamo abbinare al nostro corno. Se vogliamo scrivere musica da camera abbiamo diverse formazioni. Quartetto d'archi, quindi violino, viola, violoncello. Due violini, viola, violoncello nel caso del quartetto classico, quartetto di fiati, quartetto di saxofoni, quindi abbiamo molte possibilità solo, quindi chitarra o chitarra più in tavolatura. Quindi qui dobbiamo proprio selezionare semplicemente quello che noi dobbiamo scrivere. Nel nostro caso mettiamo chiave di violino e andiamo alla schermata successiva. Ci chiede l'armatura di chiave, ecco vedete, quindi possiamo selezionare se inserire e quale armatura. Cos'è l'armatura? È l'insieme dei diesis o dei bemolli o anche l'assenza di questi che determinano la tonalità in cui andiamo a scrivere il nostro brano. Quindi utilizzeremo un'armatura di chiave, ad esempio con un diesis, se vogliamo scrivere il nostro brano in sol maggiore o in mi minore, oppure bemolle se vogliamo scrivere in fa maggiore o in re minore. Ovviamente il saper scrivere in una determinata tonalità implica di conoscere anche l'armonia, quindi quelle che sono le regole sottese alla concatenazione delle note, degli accordi. Per ora noi possiamo anche scrivere una partitura più neutrale e rimanere su un'armatura senza diesis e senza bemolli. Aperta a tonale è una cosa particolare che non utilizzeremo nel nostro corso. Per ora possiamo selezionare un'armatura senza alterazioni. Andiamo al successivo. Ci chiede di scegliere il tipo di tempo. Quindi l'indicazione metrica, se scriviamo in quattro quarti, in tre quarti, in due ottavi, oppure tre ottavi, quattro ottavi, sei ottavi, che tipo di partitura e che metrica noi andremo a utilizzare dipende anche dal brano che vogliamo scrivere. Poi ovviamente possiamo anche usare i simboli come la C per il quattro quarti o il tempo a cappella per il due metà. Se ci sono eventuali battute a levare, in levare flagheremo la casella corrispondente e diremo poi quanto deve essere, qual è il valore del nostro levare. Nel nostro caso non vogliamo mettere battute in levare e poi andremo a determinare il numero complessivo di battute che naturalmente potremo sempre modificare in corso d'opera. Quindi possiamo mettere più battute oppure cancellare battute se il nostro brano sarà più corto oppure se è più lungo le aggiungeremo. Il tempo, questo serve poi in realtà per la riproduzione, ma non lo utilizziamo in questo momento. Adesso noi supponiamo di scrivere il nostro brano in quattro quarti, quindi torniamo alla selezione della metrica, quindi ci portiamo 4 fratto 4 e clicchiamo su fine. A questo punto abbiamo impostato il nostro primo file, vedete che nel titolo abbiamo prova, il sottotitolo prova di scrittura, nome e cognome, lo abbiamo qui. Naturalmente si potranno poi modificare questi parametri, però per ora lavoriamo su quello che è l'inserimento delle note. Vedete che qui c'è già una numerazione delle battute. Questa numerazione viene messa all'inizio di ogni riga, quindi varierà perché se qui metteremo tante note, la riga andrà a capo e verranno inseriti nuovi numeri in automatico dal programma. Questo è un primo inquadramento dell'utilizzo di MuseScore. Poi vedremo in un prossimo video come inserire le note, le pause e i loro valori e utilizzare quindi la barra dei comandi qui in alto e poi tutte le varie opzioni qui a sinistra. Grazie. Grazie. Grazie.